Musica L'ite nell'azienda indiano ucciso è successo nel Salernitano a Eboli in un'azienda bufalina. La vittima, un 28enne indiano, è stata colpita con almeno 10 coltellate da un connazionale che poi è fuggito. L'omicida è stato individuato dai carabinieri. De Magistris attacca l'asse di Luca Salvini. Il sindaco di Napoli boccia l'apertura al dialogo del governatore con i leghisti dopo le polemiche su sicurezza e migranti. Una bella accoppiata ironizza l'ex PM. Ne sconfiggiamo due con un colpo solo. Pedofilia sul web, scoperti 26 casi. Adescava minorenni attraverso le chat, poi le ricattava per le foto. Se il pedofilo è stato incastrato dai carabinieri di Ischia. Decisiva la denuncia del padre di una vittima. Almeno 26 le ragazze che sono cadute nella trappola. Evasione sequestrati bene per 8 milioni. 12 le persone coinvolte nell'inchiesta della finanza tra Napoli e Caserta, che ha portato alla scoperta della frode carosello. La maxi evasione grazie a società fittizie presta nomi nel commercio di calzature e capi di abbigliamento. Sistema Udeur, ma stella assolto. Ennesima soluzione per l'ex ministro di Grazia e Giustizia, riconosciuto estraneo dall'accusa di malversazione relativamente al filone di indagine sulla gestione dei fondi per l'editoria dell'Udeur. Per il sindaco di Benevento, amarezza e rabbia. Patto con il Movimento 5 Stelle, caos in Forza Italia. Il coordinatore regionale degli Azzurri, Desiano, interviene sul caso Avellino dopo la decisione dei consiglieri comunali di appoggiare il sindaco pentastellato. La fruncillo però chiarisce nessuna alleanza ma scelta di responsabilità. Buongiorno dal TG 696. In apertura c'è la cronaca. Omicidio in un'azienda bufalina del Salernitano. È stato ucciso un 28enne indiano a coltellate. L'assassino, un suo connazionale, sarebbe stato identificato, ma al momento non c'è traccia. Vediamo il servizio di Sarabotte. A coltellato è ucciso con almeno una decina difendenti. È morto così un 28enne di origini indiane in un'azienda bufalina della Piana del Sele, nel Salernitano. Ad ucciderlo sarebbe stato un suo connazionale. Forse un litigio che avrebbe così scatenato la furia omicida. Sulle tracce dell'assassino i carabinieri della compagnia di Eboli, che stanno indagando sul caso, cercando di ricostruire la dinamica e il movente della vicenda. È intervenuto anche il reparto scientifico per i rilievi. A scoprire questa notte, intorno alle tre, il cadavere del ragazzo, riverso nel sangue, sarebbe stato un altro giovane indiano impiegato nell'azienda, dove il 28enne lavorava. Una piccola struttura a conduzione familiare, che si trova sulla statale Aversana, in località Santa Cecilia. È così scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi. Per l'uomo però non c'era più nulla da fare. La salma si trova ora nella sala mortuaria dell'ospedale Maria Santissima Adolorata di Eboli. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Intanto è caccia all'assassino, fuggito via dal luogo del delitto. Un incendio di vaste proporzioni divampato nei capannoni di Coca-Cola a Marcianise. Secondo la prima ricostruzione, le fiamme sono partite dai pannelli fotovoltaici che coprono il tetto di una delle strutture che si trovano nell'area industriale di Marcianise. All'origine del rogo potrebbe esserci un guasto di tipo tecnico. Sul posto al lavoro quattro squadre dei vigili del fuoco di Marcianise e Caserta e i carabinieri della locale compagnia. Il capannone è stato subito fatto evacuare. Importante annuncio su Facebook del vicepremier Luigi Di Maio Ferrovie dello Stato è interessata a entrare nella NUCO che rileverà il ramo d'azienda di Industria Italiana Autobus. Vediamo. Ferrovie dello Stato attraverso Bus Italia vuole supportare Industria Italiana Autobus. Arriva una buona notizia per i lavoratori dell'ex Iris Bus di Flumeri e della Breda Menarini di Bologna. Lo Stato torna a dare speranza, vuole investire e non abbandona i lavoratori. A dichiararlo il sottosegretario di Stato all'interno Carlo Sibilia in un post su Facebook commentando l'annuncio video del ministro Luigi Di Maio. Il vicepremier comunica ai lavoratori la manifestazione di interesse di Bus Italia a rilevare il ramo d'azienda di Industria Italiana Autobus. Stamattina abbiamo ricevuto al ministero, nella posta certificata, una manifestazione di interesse di Ferrovie dello Stato ad entrare nella compagine societaria di Industria Italiana Autobus. E questa è una gran bella notizia. Dico a tutti i lavoratori di resistere ancora perché ci stiamo lavorando e speriamo di poter arrivare il prima possibile all'obiettivo di rimettere a posto questa azienda, farla produrre in Italia, sbloccare mille autobus per città e regioni, che significa che c'è più trasporto pubblico locale e di qualità per tutti i cittadini. Come abbiamo messo mano e abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile nelle peggiori condizioni possibili per l'ILVA. Adesso stiamo lavorando il più possibile su Industria Italiana Autobus e sono sicuro che arriveremo ad un risultato. De Magistris tra De Luca e Salvini. Dopo le dichiarazioni del governatore sulla sicurezza che lo hanno avvicinato alle posizioni della Lega, il sindaco di Napoli commenta «Bella accoppiata, ne sconfiggiamo due in un colpo solo». Rossella Strianese. Nella difficile impresa di strappare alla destra il tema della sicurezza e dei migranti, Vincenzo De Luca ha rilasciato negli ultimi giorni delle dichiarazioni che hanno fatto subito pensare al Volta Gabbana, un ipotetico asse politico tra la Lega e il governatore della Campania. L'invito dei sostenitori di Salvini alla Convention regionale di Campania a fine mese, invito poi declinato da De Luca, ha rafforzato questa ipotesi aprendo scenari tutt'altro che improbabili. Del resto De Luca non a caso è stato soprannominato lo sceriffo e non da oggi ma da più di un decennio e non ha mai fatto mistero delle sue posizioni per così dire piuttosto rigide e rigorose sulle questioni dell'ordine pubblico e della sicurezza. Tema su cui sono state vinte le elezioni politiche e sul quale è chiaro che si giocherà anche la campagna per le regionali del 2020. Al PD De Luca ha chiaramente detto che sulla sicurezza il partito ha sbagliato tutto, anzi è totalmente assente e quando alla festa dell'unità di Ravenna ha parlato di bande di nigeriani che occupano militarmente i territori della Campania ha ricevuto applausi trasversali entusiasmando Lega e Fratelli d'Italia. Ecco allora che arriva tempestiva l'abordata del sindaco Luigi De Magistris, probabile candidato contro De Luca nel 2020 e noto oppositore di Salvini. E così alla presentazione del libro di Antonello Caporale a Napoli dal titolo Salvini il ministro della paura, il sindaco della rivoluzione arancione ha colto la palla al balzo e ha rilanciato. De Luca apre a Salvini, bella accoppiata ha dichiarato, ne sconfiggiamo due con un colpo solo. E sul ministro degli interni promette sarà sconfitto dagli italiani politicamente, in prima fila ci saranno i meridionali. La cronaca è caccia al pirata della strada che questa notte intorno alle 4 a Pagani nel Salernitano ha travolte ucciso un'ultraottantenne. La tragedia mentre l'uomo proprietario di uno stand al mercato ortofrutticolo stava camminando in via al Cide de Gasperi. Forse un tir o un camion lo ha investito trascinandolo sull'asfalto per diversi metri per poi scappare via senza prestare soccorso. Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'ambulanza della misericordia, i sanitari però non hanno potuto far altro che confermare il decesso dell'anziano. Intanto sul caso indagano i carabinieri che stanno prendendo visione anche delle telecamere installate nella zona per risalire alla targa del veicolo che ha travolto l'uomo. Adescava a minorenni sul web per farle spogliare e poi minacciava di diffondere il materiale. Le carabinieri della compagnia di Ischia hanno arrestato un 21enne del posto nella sua rete e sono finite 26 ragazzine. Adescava su Instagram e Whatsapp a minorenni per farle spogliare per poi ricattarle di pubblicare le loro foto. In manette questa mattina è finito un 21enne residente a Prignano sulla Secchia. L'operazione è stata condotta dalla procura di Napoli che ha coordinato i militari di Ischia e Sassuolo. Proprio nel territorio campano è nata l'indagine partita a novembre del 2017 dalla denuncia di un genitore di una delle 26 vittime, tutte minorenni e residenti su tutto il territorio nazionale. L'uomo ha notato sul computer della figlia minorenne delle foto hot e ha deciso così di sporgere denuncia ai carabinieri della stazione ischitana. I militari, dopo un anno di accertamenti, sono riusciti a risalire al giovane che adescava le minorenni tramite web e dopo aver ristaurato un'apparente relazione sentimentale si faceva inviare foto o video a sfondo sessuale. Successivamente, per ottenere altro materiale, minacciava le vittime di diffondere quanto precedentemente consegnato se queste non avessero inviato altre immagini o filmati. In qualche circostanza la minaccia è anche consistita nell'invio da parte dell'indagato di filmati riconducibili al terrorismo islamico per suscitare timore nelle minorenni. Nel corso delle attività presso l'abitazione del giovane pedofilo i carabinieri hanno sequestrato svariate apparecchiature elettroniche, pc, smartphone, hard disk con all'interno materiale pedopornografico. È scattato così l'arresto. Il ventunenne deve rispondere di produzione e divulgazione di materiale pedopornografico utilizzando minori. La polizia di Napoli ha arrestato un napoletano di 47 anni. Nella sua abitazione a Casoria gli agenti hanno scoperto un vero e proprio bunker di droga, armi e attrezzature per il confezionamento della sostanza stupefacente. In particolare in uno sgabuzzino nelle vicinanze della porta d'ingresso i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato. Quattro bilancini di precisione, numerosissime bustine e rotoli di cellofan, due accendi gas, un tagliere in legno, coltelli sporchi di hashish, diverse tavolette di hashish per un peso di circa un chilo e mezzo e quattro pistole semiautomatiche completi di proiettili. La ricerca dei poliziotti è proseguita poi nella camera da letto, nella cui cabina armadio sono state rinvenute e sequestrate 18 stecche di hashish e la somma di 4.000 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. Infine, nell'auto dell'uomo sono state rinvenute e sequestrate altre 5 stecche di droga. L'uomo è stato arrestato e condotto a poggio reale. Truffa carosello, maxi evasione da 8 milioni di euro, quella scoperta dalla Guardia di Finanza tra Napoli e Caserta, 12 le persone coinvolte. Ecco come società fittizie e prestanome si creava il sistema. Simonetta Ieppariello. Beni e quote societarie per un valore superiore ad 8 milioni di euro sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza di Napoli. Si tratta, secondo gli investigatori, del profitto illecito di una maxifrode fiscale, un sistema creato ad hoc per fare business illecito nel commercio di calzature e vestiti. La maxifrode fiscale è stata scoperta nelle province di Napoli e Caserta. I militari, nello specifico, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal GIP del Tribunale Partenopeo fino ad un valore delle imposte vase pari ad 8 milioni e 697 mila euro. Questa sarebbe la somma complessiva di quanto ottenuto grazie alla sistema illecitamente evadendo imposte e sfruttando sgravi fiscali grazie alla filiera di società nei fatti inesistenti. L'operazione ha portato alla luce un'associazione a delinquere composta da 12 persone radicata nelle due province, finalizzata all'evasione attraverso il meccanismo della frode carosello. Si prevedeva la produzione di un cospicuo giro di fatture per operazioni inesistenti per un importo di 41 milioni di euro attraverso la filiera di società costituite ad hoc, legalmente amministrate da prestanome. Questo ha permesso di creare crediti d'imposta generati dall'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti ed acquistare beni senza pagamento dell'imposta. Sotto sequestro dopo il blitz della Guardia di Finanza sono finiti immobili di pregio, auto e conti correnti. 14 persone arrestate, altre 47 indagate per associazione camorristica, spaccio, usura e distorsione con la complicità di almeno un funzionario pubblico e i legami con le forze dell'ordine. Il quadro inquietante è emerso dall'inchiesta e condotta dalla procura di DIA di Salerno a Cava dei Tirreni. Vediamo. Associazione a delinquere di stampo camorristico, usura pluriaggravata, estorsione mafiosa, spaccio e detenzione illegale di armi. Sono le accuse a vario titolo che hanno portato all'arresto di 14 persone di Cava dei Tirreni in un'operazione coordinata dalla procura di Salerno e che ha visto impegnati direzione investigativa antimafia, polizia e carabinieri. Nel mirino in particolare tre gruppi criminali operativi nella cittadina metelliana facenti capo a Dante Zul e Domenico Caputano. Una ramificazione tentacolare che poteva contare, come emerso anche dalle dichiarazioni di un pentito che ha dato elementi decisivi agli investigatori, anche sulla complicità di un funzionario pubblico, tanto che il procuratore capo di Salerno, Corrado Lembo, parla di allarmanti relazioni degli appartenenti ai sodalizi criminosi con uomini delle forze di polizia e delle istituzioni locali. Nel mirino anche la raccolta pubblicitaria allo stadio Lamberti dove gioca la Cavese. Le indagini partite nel 2015 sono ancora in corso. In tutto sono 47 le persone indagate. La cosa che più ci allarma e ci rende, non dico impotenti, ma poco, come posso dire, efficaci nel svolgere l'azione di contrasto verso questi fenomeni è il rapporto di solidarietà sottile e continua che si realizza tra la vittima dell'usula e l'usuraio. Lo strumento dei collaboratori di giustizia accuratamente esaminati e verificati quanto le loro dichiarazioni è uno strumento essenziale per la lotta alle mafie e alle organizzazioni criminali to cure. Quindi è uno strumento necessario. Guai a privarci di questo strumento. Ennesima soluzione per Clemente Mastella, l'ex ministro di Grazie e Giustizia, è stato riconosciuto e strano dall'accusa di malversazione relativamente al filone di indagine sulla gestione dei fondi per l'editoria all'Udeur. Vediamo. Ennesima soluzione per Clemente Mastella, sindaco di Benevento, l'ex ministro di Grazie e Giustizia, è stato riconosciuto e strano all'accusa di malversazione relativamente al filone di indagine sulla gestione dei fondi per l'editoria che l'Udeur ha gestito con il giornale di partito, il Campanile. Con questa soluzione viene meno l'assunto investigativo che l'Udeur fosse un'associazione a delinquere. Per Mastella resta amarezza e rabbia. È un tormento, diciamo, inenerrabile, quindi molti mi hanno scritto felicitandosi, però non vedo quale fiducia possa avere dopo 14 anni, quindi il disastro rimane, il disastro umano, esistenziale, il disastro politico. Dieci anni fa dissero che l'Udeur è una soluzione a delinquere. Ora, i danni, tutto questo, perché non c'è più il partito, chi mi li esarcisce? Cioè c'era un partito politico? Finito. Quindi ringrazio i giudici che hanno accertato questa incongruità dell'attività investigativa, forse credo portata avanti in maniera eclatante, mediatica e in maniera anche ingiusta per molti aspetti, però qui non ho da riprendere nessuno e credo bisogna modificare la via giudiziaria che porta tanto affaticamento esistenziale a tante persone che andano in questo tipo di giro infernale. E andiamo ad Avellino. Ines Fruncillo ridimensiona il caos in Forza Italia dopo l'annuncio di appoggiare il sindaco Grillino Ciampi. La nostra è una decisione esclusivamente per il bene della città. Vediamo. Nessuna alleanza con i 5 Stelle, ma solo una scelta di responsabilità per il bene di Avellino. Ines Fruncillo chiarisce così le presunte tensioni all'interno di Forza Italia dopo l'annuncio del gruppo consigliare di appoggiare il sindaco Ciampi. E la decisione del coordinatore regionale del partito, Domenico Desiano, di convocare lei e Lazzaro Iandolo domani a Napoli per un confronto. Vogliamo la verità sui conti pubblici, vogliamo la verità sulle opere pubbliche, vogliamo la verità sulla manutenzione degli alloggi popolari, vogliamo la verità su tutte quelle che sono le attività amministrative degli ultimi 10, 15, 20 anni. E noi a questa operazione verità aderiamo. Non ci sono alleanze, non ci sono accordi, non c'è una maggioranza costruita. Forse è strano immaginare che c'è qualcuno che prende una posizione politica solo e soltanto per difendere la posizione di una città e non per difendere posizioni personali. Il confronto che noi avremo, perché sarà un confronto con il coordinamento regionale, è un confronto che nasce dall'esigenza di dover chiarire le discrasie che sono emerse sugli organi di stampa. Intanto domani Ciampi depositerà le linee programmatiche condivise proprio con il centro-destra e con i consiglieri del centro-sinistra per Copo, Iacovacci e Luongo. Proprio quest'ultimo in mattinata ha convocato una conferenza stampa per motivare la sua scelta. Diciamoci la verità, c'è un Consiglio comunale che pensa alle provinciali, alle regionali, anche compreso il Movimento 5 Stelle, alle prossime comunali. Nessuno si vuole assumere fino in fondo la responsabilità di contribuire a migliorare la nostra città e noi sfideremo tutta l'Aula, Movimento 5 Stelle compreso, sul tema di proposte, di idee e quindi sfideremo il cambiamento con la nostra idea di cambiamento. A Salerno, attenzione tra Comune e Curia, il sindaco Napoli ha scritto una lettera all'arcivescovo per chiedere che la statua del santo entri in municipio nel giorno della processione di San Matteo in programma venerdì 21 settembre. Vediamo. La festività del santo padrono diventa nuovamente occasione di scontro a Salerno tra il Comune e la Curia come nella migliore tradizione di Don Camillo e Peppone, istituzione laica e religiosa tornano a litigare oggetto del contendere l'ingresso della statua di San Matteo nell'atrio di Palazzo di Città durante la processione del 21 settembre. Una consuetudine che sarebbe naturale ma che non si realizza da tempo per il disappunto dell'amministrazione locale. Di qui la decisione del sindaco Enzo Napoli di scrivere una lettera all'arcivescovo Luigi Moretti per chiedere di rispettare la tradizione e la casa di tutti i salernitani. Io ho chiesto al vescovo con grande amicizia e grande rispetto e considerazione che la statua del santo entri nel Comune come una nostra consuetudine di anni, di anni. Non è che ce lo siamo inventato l'altro giorno. Ho già inviato una lettera al vescovo per sollecitargli una riflessione con grande garbo e grande umiltà e gli chiedo di fare una riflessione su questi argomenti che vi ho appena accennato. Le polemiche arrivano mentre il braccio del santo prosegue il suo tour in città. Ieri sera il simbolo ha fatto tappa ripristinando una vecchia tradizione presso l'ordine dei commercialisti della città. A noi è piaciuto rispolverare per una questione anche di cultura una tradizione che ci vede tra l'altro molto vicine a San Matteo che tra l'altro oltre a essere il padrone di Salerno è il protettore della categoria e che naturalmente non poteva non passare nella settimana dei festeggiamenti in onore della sua persona non poteva non passare il braccio presso l'ordine e quindi siamo orgogliosi di aver ripristinato questa tradizione. I sindaci sanniti chiedono la modifica dell'atto aziendale del Sampio per scongiurare definitivamente l'ipotesi di ridimensionamento dell'ospedale della Valle Caudina. Alessandro Fallarino. L'atto aziendale del complesso ospedaliero Sannita-Sampio va modificato per scongiurare il ridimensionamento dell'ospedale Sant'Alfonso dei Liguori di Sant'Agata dei Goti. A chiederlo è l'assemblea di 23 sindaci sanniti con a capo il primo cittadino di Sant'Agata e segretario provinciale del PD Carmine Valentino. Al termine dell'assemblea di sindaci che si è svolta nella serata di ieri proprio per affrontare l'annosa vicenda del ridimensionamento dell'ospedale che serve i cittadini delle Valle Caudina e Telesina. I sindaci hanno quindi preso atto in primis delle assicurazioni del governatore De Lucca che dinanzi alle proteste aveva assicurato la funzionalità del pronto soccorso 24 ore al giorno e non solo 12 ore al giorno come previsto dall'atto aziendale del rumo, approvato in regione. In attesa del polo oncologico le comunità chiedono di potenziare le attuali funzionalità dell'ospedale. Presenti all'incontro anche il Vescovo della diocesi Caudina e Telesina Don Mimmo Battaglia e i parlamentari regionali Mortarolo e Graziano. Il Vescovo Battaglia ha affermato che bisogna chiedere chiarezza sull'intera vicenda. Serve un impegno unitario e concretezza per far seguire i fatti alle riassicurazioni verbali. Non si può fare sperimentazione, ha detto, sulla pelle dei cittadini. Senza il pronto soccorso perde la politica, perdono i cittadini e l'ospedale diverrà una cattedrale nel deserto. Ha tonato il Vescovo Battaglia. Intanto resta alta la guardia del comitato pro-ospedale. Servono rassicurazioni scritte, spiegano. La situazione non è ancora chiara. A questo punto continuiamo a non sapere cosa si cela dietro la riorganizzazione dell'ospedale. Olio di semi mischiato con olio d'oliva e spacciato per extravergine. Oltre due tonnellate di olio adulterato sono state sequestrate dalla guardia di finanza in un'azienda di Sarno. Le fiamme gialle discafati durante un controllo in una ditta che si occupa dell'imbottigliamento e della commercializzazione del prodotto hanno rinvenuto una partita dalla documentazione falsa. La conferma dell'adulterazione dell'olio è arrivata dall'esame di laboratorio effettuato dall'ufficio delle Dogane di Bari. Il prodotto è stato sequestrato e tre persone responsabili dell'azienda sono state denunciate. Queste non sono case ma sono bare rivolta tra i residenti delle case popolari di Contrada Quattrograna d'Avellino che hanno chiamato 696 TV per la rubrica SOS Città al Civico 3 lo sfogo di Dora e dei suoi vicini che raccontano come si vive prigionieri in case fatte di amianto. Vediamo. Case piene di amianto, le fogne a cielo aperto e il fango che blocca ingressi e uscite dagli alloggi. Per la rubrica SOS Città di 696 TV nuovo appello da Rione Quattrograne dove Dora e i suoi vicini protestano per le condizioni di degrado in cui sono costretti a vivere. È il colmo. Non si sa più a chi chiamare. Io al sindaco Ciampi chiedo un po' di economia perché io vivo con una piccola pensione e delle volte mi devo comprare anche le medicine. E io il mese che devo comprarmi le medicine purtroppo non arrivo alla seconda settimana. Poi per favore aggiustassino poco la strada perché io sono anziana e delle volte quando piove io non posso uscire neanche a comprare un medicinale. Non sono case, sono bare spiegano i residenti del Civico 3 di quelle case venute su per l'emergenza terremoto negli anni Ottanta e fatte di amianto. Non ne parliamo proprio. A me tre anni fa è morto mio marito con quel male là. E poi il problema delle fogne. Eh, delle fogne. Questo è il coso del comune. Perché sono qua veramente. Succede una guerra. Tutto qua non mi accoglie. Sullo sfondo la rabbia di tutti per i presunti sorpassi in graduatoria che avrebbero consentito a qualcuno di ottenere comunque la casa come spiega il presidente di Assocasa, Elio Amodeo. La realtà è amare perché dopo 45 anni stiamo ancora in queste condizioni con la morte in casa sarebbe amianto e poi il restante fogne a cede aperto. Bisogna che si vada a rivedere tutto perché ci sono stati raccomandati e che si è fatta solo esclusivamente assegnazione a scopo politico. Ed era l'ultima notizia. Il Tg termina qui. Grazie di averci seguito. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.